Senti un po' Sindaco, che cosa chiedono a Mandarini? Rosario da Madrid Rosario ci segue sempre da Madrid Sì, lo salutiamo Conosco molto bene Mario Suarez E ci credo Dal punto di vista tecnico non è superiore a Berami Il Napoli non cerca centrocampisti tecnici Capaci di dare geometrie e quantità Così come Vidal e Mascherano Il Napoli non cercherà talciatori tecnici Capaci di illuminare il gioco Quando incontrerà difese schierate? Ma la sua è una domanda molto... E poi l'uso da Madrid, voglio dire Ah, quindi lo conosce benissimo Sicuramente lo ha seguito Il problema è che il Napoli è vero che cerca anche A parte cerca due centrocampisti L'abbiamo detto Uno più tecnico e uno invece più fisico, più muscolare Il problema è che quando era stato individuato il giocatore Secondo Benitez ideale per garantire un po' più di tecnica Oltre che a un po' di interdizione C'è il Gonalon La storia poi è finita Cavi Martinez si è chiusa Mascherano non ne parliamo neanche perché si è aperta per pochissimo E poi è andata a finire Quindi scali gradualmente Poi si è arrivata a Kramer Kramer seme ormai un discorso finito Sono diciamo 4-5 giocatori che erano stati individuati come le prime scelte Finisce la prima, la seconda, la terza, la quarta, la quinta E poi ti ritrovi a dover anche intervenire sul mercato Per quello che ti offre il mercato cercando di limitare tanto Grazie mille Grazie a tutti.